Questo è un ritratto di Cesare, che si trova al Museo archeologico nazionale di Napoli. Cesare scelse di farsi ritrarre secondo la tradizione realistica, e quindi notiamo l'età che avanza, il volto segnato e la profonda stempiatura. Questo è il ritratto di Pompeo, che proviene dalla tomba dei Licini a Roma ed è oggi conservato a Copenaghen. La testa è una probabile copia del I secolo d.C. di una testa originale del 60-50 a.C. che faceva probabilmente parte di una statua collocata dove fu ucciso Cesare, e cioè nell'esedra rettangolare che veniva usata per le riunioni del Senato, che si trovava di fronte al teatro di Pompeo in Campo Marzio. Era una statua che celebrava la vittoria sui pirati del 67, per cui era raffigurato nudo, con il piede appoggiato sulla prua di una nave e con il tridente in mano, quasi fosse un nuovo Nettuno, un nuovo dio del mare. Per quel che riguarda il ritratto vero e proprio, vediamo un uomo di mezza età dai tratti decisi, il volto pieno e lo sguardo acuto e penetrante, capigliatura folta e con il ciuffo rialzato sulla fronte. Questo è un dettaglio molto importante, perché è la pettinatura tipica di Alessandro Magno, che si faceva acconciare così, con i capelli alti sulla fronte, per simboleggiare la prontezza quasi divina della sua mente. E così comincia a scomparire quel conservatorismo che rigettava l'elenizzazione, e Pompeo grecizza se stesso, ispirandosi ad un monarca universale addirittura, e si distacca dal realismo, preferendo ai volti segnati dal tempo e dalle asprezze della vita, uno stile morbido e senza eccessi, ispirato appunto all'elenismo maturo che mescola verismo e idealizzazione. Proprio per questa sua aspirazione ad un grande potere personale, Pompeo costruisce tutto un grande complesso al Campo Marzio, cioè il teatro, la curia, i portici e perfino la sua casa, ma questo lo vedremo appunto quando analizzeremo la zona del Campo Marzio. Vorrei segnalare inoltre il ritratto di Crasso, che qui non possiamo vedere, conservato al Museo del Louvre, che fa parte della seconda tendenza, cioè quella caratterizzata dall'idealizzazione che mostra una superiorità intellettuale con uno sguardo diretto e penetrante. Anche il ritratto di Crasso è una copia del I secolo d.C. da un originale del 60 a.C. In chiusura segnalo un altro tipo di ritratto, presente anche e soprattutto in pittura e negli usi funerari, che è quello che veniva detto immago clipeata, cioè immagine sullo scudo. L'origine di questo ritratto è greca e in Grecia aveva un significato di particolare onoranza per il personaggio ritratto. In pratica è una testa che sporge da uno scudo, o clipeo, che gli fa da cornice rotonda. Questo in particolare è l'immago clipeata di bronzo, che raffigura l'imperatore Traiano in età avanzata, ma ne riparleremo. Chiudiamo qui, vi ricordo che aspettiamo i vostri commenti anche sul nostro sito www.vidlab.it. Ciao e alla prossima!